Purtroppo in questi anni sono avvenute diverse situazioni problematiche legate all'alluvione eccetera dopo il famoso incendio dell'epoca che ha proposto questa problematica qui sul San Bartolo e quindi l'alluvione di Senigallia, l'alluvione di Maggio che ha toccato anche la vicina Romagna e tanti comuni di questo territorio. Abbiamo avuto il nostro bel da fare e sinceramente è rimasta un pochino indietro rispetto alla tabella di marcia il ripristino anche di questa parte del territorio che è tutta la falese del San Bartolo comprensiva anche di quella che è la strada che da Fiorenzuola scende verso la spiaggia. Questa strada è compresa nel primo stralcio di interventi che saranno provati entro il 15 di ottobre quindi siamo agli sgoccioli, tant'è che c'è una riunione qui in Comune di Pesaro tra qualche giorno il giorno 11, non mi ricordo esattamente che giorno sia, proprio per concludere definitivamente questo tipo di attività. Quindi sono disponibili 4.800.000 euro del Ministero attraverso la Regione Marche la procedura, diciamo così, di approvazione sarà conclusa entro l'anno e la scadenza entro gennaio 2024 per approvare il progetto esecutivo, poi si va alla gara d'appalto la gara d'appalto quindi potrebbe anche succedere che i lavori iniziano già la prossima primavera e la strada del mare è inclusa nel primo lotto di intervento perché è la strada che servirà proprio da strada di cantiere, cioè i mezzi che dovranno operare per il ripristino della falesia nella sua complessità dovranno passare per quella strada, conseguentemente sarà ripristinata come primo intervento e conseguentemente poi potrà successivamente essere utilizzata anche da eventuali mezzi di soccorso, qualora ce ne sia bisogno eccetera e alla fine degli interventi rimarrà una strada accessibile perché sarà ripristinata appunto durante i lavori proprio come strada da utilizzare per i mezzi di servizio, quindi è indubbio che sarà ripristinata per prima e poi alla fine dei lavori rimarrà a disposizione della collettività come sempre è stato in passato.